ciao amici ed amiche di youtube ben trovati al cielo della settimana questa settimana un puntatone perché parliamo delle tappe di marzo quindi parliamo del mese di marzo ma prima di entrare nel vivo le solite raccomandazioni iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanella per non perdere nessuna delle nuove uscite e soprattutto se volete leggere l'oroscopo settimanale lo trovate al link nella box qui sotto allora se stiamo pronti a partire partiamo io direi di entrare nel tema della serata perché il tema è ricco sapete che da qualche giorno il sole è entrato in pesci e sapete benissimo che il sole è la lancetta più importante nell'orologio astrologico e quindi ogni volta che il sole cambia segno cambiano un po gli scenari per tutti i segni zodiacali alla base di questa considerazione c'è proprio una cosa che io avevo notato ancora prima di cominciare a studiare l'astrologia e cioè il fatto che negli stessi mesi anno dopo anno mi succedevano cose simili quando ho cominciato a studiare l'astrologia mi sono dato anche una risposta a questa a questa osservazione che in realtà ha un suo fondamento perché perché di anno in anno il sole attraversa gli stessi segni negli stessi mesi e crea una specie di circuito è come se ognuno di noi compiesse un viaggio articolato in 12 tappe una per ciascun mese dell'anno una per ciascun segno che attraversa il sole e di anno in anno questo viaggio si ripete simile e quindi oggi andiamo a parlare proprio delle nuove tappe del mese di marzo segno per segno che dipendono dall'ingresso del sole in pesci e questo innanzitutto ha un po il sapore di un oroscopo mensile però ancora prima se siete dei buoni osservatori se siete dei buoni storiografi di voi stessi provate a tornare con la mente allo stesso periodo e quindi alla fine di febbraio e alle prime tre settimane di marzo degli anni passati perché potreste rendervi conto che ci sono dei temi che ricorrono di anno in anno ci sono delle questioni che ritornano chiaramente quando parliamo del mi capitano le stesse cose non parliamo delle stesse cose a livello materiale ma di cose analoghe che producono effetti simili quindi sfide vivi momenti di indecisione momenti di rettilineo in cui si può diciamo dare potenza al motore curve a gomito in cui invece bisogna dosare potenza e controllo ed è come se fosse un circuito come quello delle corse automobilistiche dove ogni tratto del percorso ha le sue caratteristiche bisogna conoscerlo conoscendolo e questo è un po il senso del giro dell'anno in 12 tappe ha proprio il senso di sapere che cosa mi può aspettare in quel momento dell'anno e quindi riconoscere certi segnali sfruttarli e cavalcarli al meglio è come guardare l'orologio e sapere in che momento sono allora cominciamo naturalmente proprio con i pesci perché sono il segno del mese dal 18 di febbraio il sole è in pesci ci resterà fino al 21 di marzo e l'ingresso del sole nel proprio segno quindi il mese del compleanno rappresenta a tutti gli effetti l'inizio di un nuovo viaggio è una fase di inizi di nuove partenze di situazioni che a livello puramente embrionale partono e aprono nuove strade quindi per i pesci soprattutto nel momento del proprio compleanno ma la tappa di marzo è la prima tappa è un nuovo inizio e quindi la prima cosa fondamentale soprattutto nei dintorni del proprio compleanno sono i desideri perché questi fantomatici desideri che si esprimono soffiando le candeline sono intenzioni siccome il primo mese di un nuovo ciclo ha proprio la capacità di dare l'imprinting a quello che ne verrà fuori è fondamentale esprimere i giusti desideri i giusti desideri si esprimono al positivo in maniera propositiva desiderio al negativo non servono a niente quindi speriamo di non essere schiacciato da un meteorite è un desiderio inutile desiderio utile è il desiderio che dice dove voglio andare con chi voglio stare in quale se dovessi immaginare una vita migliore chi ci sarebbe cosa starei facendo dove starei questi sono desideri che proiettano in qualche modo la rotta di un viaggio che sta per iniziare come vedremo quindi fondamentale esprimere i giusti desideri ed in particolare questa settimana e la prossima quindi l'inizio di marzo per i pesci sono davvero un continuo apparire di nuovi input di nuove persone di nuove idee di nuove intuizioni di nuove situazioni che possono davvero tracciare un nuovo corso in certi casi in maniera del tutto imprevista per cui fate grande attenzione alle persone conosciute per caso alle situazioni che vi vengono in mente e che sono comunque una rottura rispetto al passato per cui sicuramente grande momento di inizi per i pesci ma soprattutto in certi casi anche un momento di fine perché per per molti nati del segno questa queste prime tre settimane di marzo possono essere anche il cielo in cui ci si libera di una zavorra di un fardello di una preoccupazione di qualcosa che ha rallentato negli scorsi mesi se non negli scorsi anni quindi questo è proprio non ci scordiamo che i pesci hanno giove nel segno giove è veramente un seme di novità fondamentale quindi per molti questo può essere veramente il momento in cui si passa la frontiera in una nuova vita come lo si fa iniziando qualcosa di nuovo ma anche scrollandosi dalle spalle una preoccupazione un timore un fardello una grana legale un problema che ha creato una zavorra nei tempi passati tutto questo vale anche per chi ha l'ascendente l'avete chiesto qualcuno ha scritto l'ascensore comunque vale anche per chi ha l'ascendente in pesci per cui più e più volte nelle scorse settimane ho parlato dei pesci come di tom hanks in terminal per cui bloccati tra una vita che sta giungendo al termine e una nuova vita che sta per iniziare senza avere le carte regola per sbarcare quindi in attesa di un semaforo verde di un'autorizzazione di un permesso di un'opportunità adesso questo è il momento in cui tom hanks attraversa finalmente quella frontiera e sbarca in una nuova vita tutto questo a livello concreto si traduce nel avere le condizioni giuste per cambiare tutto è potenzialmente in revisione un nuovo ruolo una nuova azienda un nuovo lavoro una nuova città un trasferimento fare qualcosa di completamente diverso lasciarsi alle spalle degli appesantimenti riuscire a rimettere in pista una relazione oppure se questo è palesemente non più possibile chiuderle andare avanti è veramente un momento di rinnovamento profondo per i pesci tutto questo si semina nei primi dieci giorni di marzo e con l'arrivo di mercurio pianeta delle comunicazioni messaggero dello zodiaco dal 10 11 marzo in pesci porta anche diciamo risposte porta anche autorizzazioni via libera insomma il timbro sul passaporto che permette di varcare quella frontiera dai pesci passiamo all'acquario oggi seguiremo le tappe in via progressiva e quindi seguiremo lo zodiaco ritroso l'acquario tutto questo lo ha attraversato nelle scorse settimane quando il sole era in acquario e adesso attraversa la seconda tappa guardatela così è come se nei mesi passati dall'inizio dell'anno in particolare quando il sole era in acquario l'acquario fosse partito per un nuovo viaggio e adesso dovesse concretamente mettere a terra alcuni nuovi obiettivi e quindi si parte come facendo dei preventivi capendo certi traguardi se sono realizzabili oppure no in che tempi sono realizzabili quanto costano dove trovare i soldi necessari e quindi questo mese di marzo per l'acquario può essere un mese in cui si parla molto di soldi l'acquario è un segno che ha un rapporto difficile con il denaro normalmente gliene frega poco se qualcosa gli piace è disposto a farla senza guardare alle economie se qualcosa non gli piace comunque lo disturba a prescindere dai soldi invece nel mese di marzo di soldi si parla e come e bisogna anche tirarsela un po bisogna anche valorizzarsi se una proposta non convince la si può rimandare tranquillamente al mittente prendere tempo guardarsi in giro se ci sono dei clienti che non pagano è arrivato il momento di battere cassa di farsi sentire insomma è un mese in cui l'acquario è più attento al lato pratico delle cose a partire dai soldi e non perché sia venale ma perché ci sono degli obiettivi da realizzare e hanno bisogno di risorse e tutto questo ha a che fare proprio con la messa a terra concreta di alcuni obiettivi è come se fosse il primo la prima diciamo tappa concreta di un viaggio se io sto partendo la prima cosa che faccio cos'è andare dal benzinaio mettere benzina cambiare le gomme controllare l'olio vedere la strumentazione cos'ho e cosa mi manca e cercare di colmare eventuali lacune tra l'altro dal dal 6 di marzo arrivano anche venere e marte in acquario per cui tutto questo si fa anche con una determinazione con una decisione con una seduttività con un savoir faire con un garbo per cui all'acquario è molto difficile dire di no su tutta questa serie di richieste che riguardano i soldi sul lavoro soldi significa anche l'inquadramento il riconoscimento degli straordinari del giusto livello contrattuale insomma significa tante cose non solo con venere e marte che arrivano nel segno comincia un mese di marzo che sull'amore può essere veramente un tornare a ballare un tornare in pista per cui se ci sono dei dubbi se ci sono delle situazioni poco chiare se ci sono delle situazioni ambigue questa è la settimana giusta per levarsene di torno perché dal 7 di marzo si torna veramente in pista c'è un cielo eccezionale per fare nuovi incontri per fare nuove conoscenze per conquistare o riconquistare una persona per cui eliminiamo anche un po tutta una serie di fronzoli perché si va ad un cielo decisamente positivo andiamo al capricorno capricorno terza tappa la terza tappa è la tappa innanzitutto del dialogo per cui aiuta a parlare chiaro aiuta a trovare le parole giuste per affrontare certi discorsi che finora sono stati complessi aiuta a riaprire certe trattative penso a chi deve rinegoziare un contratto penso a chi deve rivedere alcuni aspetti del proprio ruolo ma in generale la trattativa è la premessa dell'accordo è lo scambio io sono disposto a fare questo per te e mi aspetto questo in cambio quindi tutti i capricorno che hanno delle situazioni sul lavoro in cui non si sentono valorizzati per ciò che danno hanno nel mese di marzo il cielo giusto per riaprire il dialogo per mettere le proprie questioni sul tavolo per affrontare una discussione anche da un punto di forza perché il capricorno a febbraio ha dimostrato moltissimo sul lavoro e quindi oggi certe discussioni le fa da una posizione di maggiore forza ma significa anche al di là del lavoro trovare la spinta giusta per dire qualcosa che finora non sei riuscito a dire per affrontare un discorso che ti viene spinoso che ti viene complicato e qui penso anche all'amore a tutti quelli che hanno affrontato degli alti e bassi a tutti coloro che devono trovare ancora un assetto chiaro a chi non ha ancora dichiarato un sentimento tutto questo con questo transito di terza casa che è proprio la casa del dialogo della comunicazione dello scambio e della premessa di un accordo si riesce ad affrontare può essere anche un momento in cui terza casa notizie quindi per chi sta cercando un nuovo lavoro marzo può essere evidente un mese ricco di opportunità per cui occhio agli annunci spargete la voce mettetevi in pista fatevi vedere perché comunque da cosa nasce cosa è un mese comunque di grande movimento allora arriviamo a questo punto al sagittario sagittario incontra la prima quadratura dell'anno la quarta tappa che è una tappa di una grandissima importanza mettiamola così rispetto a tutta una serie di novità sorte nel cielo del sagittario all'epoca del suo compleanno e quindi nel mese di dicembre tra fine novembre e dicembre questo cielo di marzo rappresenta il momento in cui mettere le cose nero su bianco in cui entrare nel vivo di certe situazioni somiglia un po ad un decollo per cui devo dare la spinta giusta per far salire l'aereo molto spesso in questa fase mi trovo a sostenere degli esami dei test dei confronti mi trovo a definire la mia posizione attraverso il mezzo di contrasto per cui io ho un progetto te lo propongo un capo mi dice non mi interessa quello è il momento in cui se ci credo fino in fondo devo insistere quello è il momento in cui si crea una selezione tra chi veramente desidera realizzare certi progetti e chi ha bisogno di pensarci meglio non è del tutto convinto non ha certezza di quello che vuole portare avanti quindi è un grande selettore certe piccole difficoltà di questo periodo soprattutto appunto se rispetto ad una novità un interlocutore non è convinto non non ti lascia andare ma in qualche modo ti chiede di approfondire meglio certi dettagli questo è il momento in cui dimostrare il giusto equilibrio tra potenza e controllo proprio come un aereo se l'aereo non ha abbastanza spinta non sale se l'aereo sale con troppa potenza perché magari affronto un confronto con rabbia con stizza con nervosismo è il momento in cui invece l'aereo si schianta quindi qui ci vuole potenza e controllo e concretamente può essere una fase in cui si lavora proprio alle radici a consolidare certe situazioni quanti sagittari in questo periodo hanno a che fare con questioni che riguardano la casa penso a chi deve traslocare a chi deve fare una ristrutturazione penso a chi ha continue riparazioni penso a chi più simbolicamente si sta dando da fare per tenere unito una famiglia per abbassare certi conflitti per accorciare certe distanze perché perché durante la quarta tappa si lavora alle fondamenta che si tratti della famiglia che si tratti di consolidare certe situazioni di lavoro che si tratti di fare il lavoro in casa perché il rubinetto perde ha comunque il senso di rafforzare certe fondamenta aspettatevi che ci possano essere dei confronti aspettatevi che ci possano essere dei piccoli esami dei test ma ricordatevi che hanno proprio il senso di mettere di testare la determinazione in portare avanti certe iniziative vi faccio un esempio banale e poi chiudo se io apro la porta di casa per uscire e vedo dei nuvoloni neri dei tuoni e le prime gocce se sto andando a fare una passeggiatina chiudo la porta e torno in casa ma se sto andando a fare qualcosa di importante me ne frego che piove mi attrezzo e vado ugualmente la quarta tappa per il sagittario e per qualunque altro segno ha proprio a che fare con questo se sto portando avanti qualcosa tanto per di fronte alla prima difficoltà probabilmente tirerò i remi in barca e ci rifletterò meglio se sono determinato se sono motivato vado dritto per la mia strada e da questo giro di boa esco più deciso più forte più determinato di prima e mi aspetta poi una ricompensa andiamo al allo scorpione lo scorpione invece tutto questo di cui abbiamo parlato se lo lascia alle spalle a piccolo recap anche per il sagittario dal 6 di marzo venere e marte a favore quindi tutto questo questo area di test di confronti di esami di cui parliamo li si sostiene comunque con due fortissimi alleati e non ci scordiamo che poi dall 11 maggio arriva anche giove a favore per cui se ci sono delle dei confronti dateci dentro perché ne uscite comunque vincitori andiamo allo scorpione che tutto questo giro di boa se lo lascia alle spalle lo ha già affrontato con il transito del sole in acquario a febbraio adesso gli spetta il rettilineo adesso gli spetta la ricompensa le sue diciamo ha tenuto il punto ha insistito quanto c'era bisogno di insistere adesso diciamo che se la gode di più la quinta tappa è proprio quella dell'espressione personale proprio il rettilineo che ti permette di esprimerti per cui un cielo che non ti mette costantemente alla prova che ti dà più la possibilità di brillare di esporti di dire la tua di cimentarti in nuove attività di ottenere anche un riconoscimento e soprattutto è la casa della la tappa della creatività e la tappa del romanticismo quindi significa benessere significa che le cose non richiedono più costanti rallentamenti ma accelerano vanno più velocemente sono più semplici che le energie tornano a girare che c'è più capacità di convincere e di portare l'altro dalla tua parte significa che comunque per lo scorpione inizia un periodo che gira decisamente meglio è sì vero che dal 6 arrivano marte venere in quadratura ma è anche vero che se c'è bisogno per lo scorpione di aggiustare certe dinamiche nei rapporti interpersonali c'è anche la grinta il carisma giusto per farlo e per non tirarsi indietro scorpione è carico a pallettoni sicuramente ha la possibilità di mettere a segno un gol importante sul lavoro soprattutto su progetti che nascono dalla sua creatività quindi essere diciamo finalmente valorizzato e messo in luce ha la possibilità di convincere un referente in una trattativa di fare una conquista in amore l'unica raccomandazione cercate di non essere troppo insistenti perché appunto il leone in questo periodo ha un motore da mille cavalli che gli bussa sotto per cui c'è il rischio anche di eccedere a volte con i toni andiamo ancora avanti abbiamo la bilancia che in questo momento attraversa la sesta tappa la sesta tappa è la tappa dell'ordine del metodo la bilancia in questo periodo is the new virgo somiglia veramente alla vergine ha bisogno di perimetrare bene determinati progetti di organizzarli in maniera che girino che vadano al regime che non siano sempre perennemente in affanno ha bisogno di crearsi uno stile di vita più equilibrato meno faticoso per cui di organizzarsi meglio gli impegni di sfrondare l'agenda da ciò che è di troppo di non vivere perennemente in affanno per fare questo di che cosa ha bisogno ha bisogno di dividere meglio certi compiti soprattutto nei casi in cui è la bilancia che se ne fa carico per sé e anche per gli altri è possibile che in questo periodo la bilancia senta il bisogno di iniziare una dieta di mangiare meglio di dormire di più di scriversi in palestra qualsiasi cosa che abbia proprio a che fare con il ricreare un equilibrio anche a livello corporeo perché poi alla fine il corpo è comunque il tempio e quindi ha bisogno di essere ben manutenuto e questa sesta tappa che attraversa la bilancia proprio il senso di manutenere bene il tempio tu che sei della bilancia hai bisogno di manutenere il tempio no di di fare manutenzione hai bisogno la sesta tappa è proprio quella che serve a guardare alla manutenzione del tempio e quindi probabilmente ritmi più sostenibili migliore organizzazione delle cose migliore divisione di certe situazioni per chi ha iniziato un nuovo ruolo un nuovo lavoro un nuovo progetto nelle settimane passate è proprio quella tappa che permette di mandare le cose al regime di farle girare in maniera più regolare di non viverle sempre in una situazione d'affanno bilancia un segno cardinale per cui tende a lanciare sempre nuove cose questo cielo di marzo le permette anche di organizzarle meglio andiamo alla vergine la vergine attraversa una delle tappe più importanti dell'intero giro la settima tappa sei mesi dopo il compleanno il sole transita in opposizione al suo segno perché transita in pesci pesci sono il segno opposto alla vergine ed è quella fase che io chiamo di anti compleanno perché sono sono passati sei mesi dal compleanno scorso ne mancano sei per il prossimo ed è come stare esattamente a metà di un guado ed è una fase che vedendo l'opposizione del segno dell'opposizione del sole dall'opposto segno dei pesci è come se mettesse la vergine davanti ad uno specchio è come se la vergine passasse in rassegna tutto ciò che fa parte della sua vita capendo esattamente ciò che va nella direzione in cui vuole andare e ciò che invece va in una direzione diversa e da lì in poi comincia a capire ciò che merita un sì e ciò che merita un no ma soprattutto è una fase in cui la vergine pretende chiarezza su ciò che ha attorno e quindi se c'è una situazione indefinita sul lavoro bisogna chiarirla se c'è una trattativa che va avanti per le lunghe arriva il momento di firmare un contratto se c'è un rapporto affettivo che ancora è indefinito bisogna capire cosa siamo cosa non siamo cosa possiamo essere insomma chiarezza richiesta di chiarezza di cose o bianche o nere perché non è più tempo di zone confuse di grigio e in tutto questo scenario c'è un tema fondamentale per la vergine in questo momento che è quello di chiedere perché la vergine è un segno che detesta farlo è un segno che ha una tale attenzione nei confronti dell'altro nota tutto nota esattamente di cosa ha bisogno che la stessa cura si aspetta nei propri confronti ma non sempre è così la vergine dice già che te lo devo chiedere già il sogno sei infranto già che te lo devo chiedere già mi prende male e invece in questo momento è fondamentale per la vergine chiedere tirare fuori ciò di cui ha bisogno e soprattutto anche mettere alla prova l'altro in base al fatto che te lo possa o non possa riconoscere e quindi qui si crea uno spartiacque importante per la vergine tra chi sale sull'arca di noè e fa parte della sua nuova vita e chi invece resta a terra tra le persone che la accompagnano nel viaggio e le persone che non la accompagnano quindi anche a costo di essere molto severi in questo momento probabilmente ci sono delle situazioni che verranno promosse e delle situazioni che verranno bocciate mi riferisco a rapporti di lavoro con soci con collaboratori mi riferisco a certe realtà di lavoro dove non si riesce a fare quel salto mi riferisco a certi rapporti ancora embrionali in amore dove però non si riesce a dire io e te stiamo insieme ecco io e te stiamo insieme è una cosa che in questo momento o la vergine riesce a dire oppure guarda da un'altra parte ed è un po come l'anello di match point per chi ha visto il capolavoro di Woody Allen cioè in equilibrio sulla balaustra non ci può stare o va di fuori o va dentro in questo momento per la vergine o è sì oppure è inevitabilmente no o una situazione mi convince oppure è da lasciarsela alle spalle allora andiamo ancora avanti e arriviamo al leone che invece questa situazione se la sta piano piano lasciando alle spalle perché il grosso l'epicentro di questa situazione l'ha vissuto a febbraio in cui ha avuto il sole in opposizione dall'acquario e attraversa l'ottava tappa se ci pensate innanzitutto si lascia alle spalle l'opposizione e quindi diciamo che certe situazioni cominciano a essere meno tese ma soprattutto comincia a sfrondare tutto ciò che si rende conto che ormai non va più nella direzione che desidera quindi forte della consapevolezza dalla quale esce dall'opposizione di febbraio e dall'anticompleanno di febbraio adesso comincia a sfrondare quindi nel mese di marzo accantona certi progetti che non lo portano da nessuna parte sente il bisogno di chiudere certe amicizie che non servono più a niente sente il bisogno di creare un vuoto di fare pulizia di aprire delle superfici più sgombre e questo lo si vede anche nelle piccole cose per cui molti leoni a marzo sentiranno il bisogno di sfrondare gli armadi di buttare via quello che è di troppo di eliminare delle cianfrusaglie da casa di ricreare delle superfici dove le energie possano circolare se ho una casa piena di cose dove per attraversare una stanza inciampo cinque volte in degli ingombri quelle sono energie che non girano a marzo il leone butta via tutto tra l'altro è un mese che ha anche una grande importanza dal punto di vista delle finanze per cui per chi sta cercando un mutuo un prestito un'altra forma di finanziamento per sostenere un'iniziativa è un mese dove tutto questo può trovare la sua soluzione tra l'altro dal 6 marzo arrivano venere e marte in opposizione per cui ancor più certi rami secchi che il leone sfronda hanno proprio il senso di certi rapporti che vede che non lo portano nella direzione desiderata o nei quali si impone di più diciamo anche che il leone nella seconda metà di febbraio ha spesso alzato la testa ha ripreso a ruggire ha ripreso in mano le redini di certe situazioni ha preso di petto delle situazioni che andavano raddrizzate e adesso sta un po come un pugile dopo un incontro un po frastornato un po confuso si chiede se ha fatto bene ad alzare la voce oppure no la risposta è assolutamente sì per cui finalmente diciamo finalmente il leone ha una criniera più riccia finalmente torna diciamo anche un po più in controllo di certe situazioni andare avanti per quella direzione là allora siamo arrivati alla nona tappa che questo mese attraversa il cancro la nona tappa è bellissima perché è proprio orizzonti in espansione è proprio andare dove non sei mai stato è una dimensione che porta alla conquista di nuovi territori che porta all'allargamento di certe prospettive a partire dal viaggio che forse è la sua prima espressione quindi un cancro che torna in movimento che si muove anche fisicamente di più che ha delle opportunità di viaggiare di entrare in contatto con nuove realtà di conoscere nuove persone e così facendo di moltiplicare le opportunità soprattutto per chi vuole un cambiamento la nona la nona tappa è una delle più belle dell'intero anno a me fa pensare sempre alle caravelle di cristoforo colombo con le vele spiegate verso il nuovo continente e quindi non solo permette di viaggiare di più anche di andare in trasferta sul lavoro di esportarsi in altre città di via di entrare in contatto con persone di altre città ma prima ancora rimette in moto le energie per cui spinge ad osare ad azzardare a tentare imprese mai tentate prima insomma è veramente una tappa di grandissimo rilancio in tutto ciò mettiamoci pure poi che lunedì che domenica 6 marzo è festa della liberazione per il cancro che si libera dopo quattro mesi dell'opposizione del di venere e dopo due mesi abbondanti dell'opposizione di marte e quindi com'è marzo per il cancro è contemporaneamente come levare il freno a mano di queste due opposizioni così faticose e poter finalmente dare gas quindi da una parte si attenua quella sensazione di essere sempre sotto scacco sotto osservazione sotto giudizio dove bisogna lottare per qualunque cosa e dall'altra c'è un cielo che è proprio un volano di espansione andiamo ancora avanti e arriviamo ai gemelli decima tappa questa è una tappa fondamentale ed è talmente importante che non sempre è facile raccontarla innanzitutto la decima casa la decima tappa è il momento più importante forse per la carriera prima ancora per la crescita come persone per la propria indipendenza per la propria autonomia ma è un po la resa dei conti di tante iniziative seminate nei nove mesi precedenti se ci fate caso sono passati nove mesi dal compleanno il nono mese è il momento in cui la gestazione è compiuta e bisogna vedere che cosa abbiamo fatto e quindi è un po una resa dei conti potrebbe essere un momento in cui ci sono delle situazioni sul lavoro che fanno sentire un po sotto esame perché magari c'è una laurea una tesi da discutere un progetto da consegnare un test di valutazione da fare c'è comunque qualcosa che fa sentire sotto pressione ma allo stesso modo è il momento in cui ci può essere quella vera e propria svolta che ti porta a salire di livello nella scala della carriera laddove carriera non è solo il lavoro ma è proprio la crescita per cui in una decima tappa ci può essere una laurea ci può essere un momento decisivo per il lavoro ci può essere un diventare papà o mamma ci può essere uno scatto di crescita importante che va in qualche modo coltivato con attenzione senza essere troppo frettolosi senza commettere errori di distrazione sapendo che lì si gioca una partita importante in qualche modo però anche per i gemelli questo mese di marzo è scandito dal ritorno in buon aspetto di venere di marte quindi anche se ci sono per esempio delle prove delle situazioni da gestire con attenzione che possono essere delicate dall'altra parte ci sono comunque due grossi alleati che sostengono io faccio sempre un esempio quando parlo della decima tappa che corrisponde comunque ad una quadratura quindi a un momento impegnativo però contemporaneamente una quadratura nella casa della carriera della crescita dei successi dei riconoscimenti allora se io sono sul red carpet del festival di can e mi metto un dito nel naso lo vedono in mondo visione in tutto il mondo se lo faccio in casa mia non se ne accorge nessuno allora la decima tappa è un po' come il red carpet di canna cioè hai gli occhi addosso la gente si aspetta qualcosa da te se la imbrocchi giusta pensate a chi ha tirato il rigore che ha chiuso gli ultimi mondiali cioè è chiaro che c'è un'aspettativa fortissima e quindi anche un po' una pressione anche un po' un'ansia ma è un momento in cui se la metti importa hai veramente un momento di grandissima consacrazione se pigli il palo è colpa tua i gemelli si sentono un po' in una fase del genere hanno bisogno di mettere in rete un gol e a marzo potrebbero sentire un po' la pressione della tribuna che li guarda ma allo stesso modo è il momento in cui possono veramente mettere la palla in rete e passare di livello allora arriviamo al toro toro undicesima tappa quindi questo clima di pressione se lo lascia alle spalle l'ha vissuto nel mese di febbraio e adesso entra in una fase che è proprio il senso di fargli innanzitutto render conto di che cosa ha seminato nei mesi passati e quindi darsi anche un po' una pacca sulla spalla e dire dai tutto sommato stai andando stai andando forte come dice gianni morandi e contemporaneamente permette di stabilire nuovi obiettivi di stabilire nuovi traguardi molto importante per il toro in tutto il mese di marzo sono le nuove persone perché sono dei passepartout che aprono delle porte che finora sono rimaste chiuse sono delle fonti di ispirazione possono introdurre nuovi ambienti possono svelare le regole del gioco in nuovi ambiti lavorativi possono come il deus ex machina risolvere una situazione che sembrava ingarbugliata e contemporaneamente possono anche sbloccare certe dinamiche affettive possono mostrare nuove opportunità che fanno battere il cuore ma possono anche riportare pace se ci sono stati dei contrasti o sul lavoro o in amore per cui innanzitutto ci si lascia la pesantezza del mese di febbraio dove ci sono stati certi attriti certi contrasti che adesso cominciano a girare meglio dove ci sono state delle prove che hanno creato anzi adesso girano sicuramente in maniera più leggera e in generale diciamo scorre tutto meglio ma in ogni caso sono fondamentali i nuovi progetti le nuove prospettive e le nuove persone veramente chi trova un amico trova un tesoro per il toro a marzo è più vero che mai chiudiamo con l'ariete che abbiamo lasciato per ultimo per un semplice fatto perché attraversa l'ultima tappa prima di un nuovo inizio perché dal 21 marzo il sole torna nel segno quello è un momento in cui si dà fuoco alle polveri queste tre settimane di marzo prima del ritorno del sole in ariete rappresentano un po' un'anticamera rappresentano un po' una fase di attese per cui penso ad esempio a chi sta preparando un esame in attesa di poterlo dare a chi si è si è un po' chiuso per poter fare il rush finale in un percorso di studio in un progetto da consegnare penso a chi sta aspettando il via libera per partire con un progetto un permesso un'autorizzazione è una fase che permette però anche di mettere a punto gli ultimi dettagli di chiarirsi le idee è tipicamente una fase un po' a porte chiuse per cui è un ariete che insolitamente ha anche bisogno di stare un po' di più con se stesso di chiudere fuori dalla porta un po' il rumore il frastuono di certe situazioni che lo distraggono di essere più concentrato più su se stesso se ci sono dei dettagli che ancora non gli sono chiari di metterli a punto e in generale è una riete che oscilla perché poi dal 6 arrivano anche comunque venere e marte a favore dopo aver lasciato una lunghissima quadratura per cui è un cielo che sul fronte dei rapporti risorge letteralmente il ritorno di marte a favore è un motore ausiliario il ritorno di venere a favore significa smussare gli angoli nei rapporti e quindi è sicuramente un mese ricchissimo di opportunità però contemporaneamente è come se la riete avesse bisogno di tenersi un piccolo spazio dove non entra nessuno dove c'è silenzio dove c'è concentrazione anche perché diciamo che questa tappa a me fa sempre pensare al camerino alla pausa in camerino di un attore prima di entrare in scena che è proprio il momento in cui metti in ordine le idee in cui ti rifai il trucco in cui ripassi la parte in cui sai esattamente fai maturare l'adrenalina che serve per entrare in scena tutto questo è più vero che mai quest'anno per due motivi perché dal 21 marzo il sole torna nel segno ma perché dall 11 maggio giove torna nel segno quindi siamo all'anticamera di un nuovo inizio importantissimo se ci sono delle forze da chiamare a raccolta se ci sono delle situazioni da chiarire questo è il cielo migliore per farlo detto questo non ci scordiamo però e bisogna segnalarlo che a marzo marte lascia la quadratura dopo due mesi e venere lascia la quadratura dopo quattro mesi quindi quella sensazione di essere in lotta contro il mondo quella situazione sensazione di doversi guardare costantemente le spalle quel senso di freddo e di distanza in amore quella difficoltà a volte di parlare la stessa lingua tutto questo ce lo lasciamo alle spalle con questa nuova posizione di marte e venere per chi cerca un nuovo amore marzo è veramente il mese diciamo in cui la giostra degli incontri torna a girare per il verso giusto allora io direi che siamo arrivati alla fine di questa carrellata una cosa che dico sempre è per chi è bravo con la memoria tornate agli anni passati a questo stesso periodo e cercate dei collegamenti dei ritorni delle situazioni che possono fare da trade union perché questo vi aiuta anche a capire un po di più come è costruito questo fantomatico giro dell'anno in 12 tappe ogni mese una tappa e a marzo ogni segno attraverso una tappa differente io a questa cosa ci credo tantissimo cioè secondo me capire come funziona questo giro quando inizia quando c'è i suoi momenti critici quando c'è i suoi momenti di alleggerimento di rettilineo aiuta anche a capire esattamente in che momento sono quali sono i temi le sfide le opportunità che mi posso aspettare ed è come avere una bussola come capire esattamente dove sto poi il resto è tutto in qualche modo rimesso nelle mie mani alle mie scelte io vi ringrazio per essere stati insieme le solite raccomandazioni prima di lasciarci iscrivetevi al canale attivate la campanella trovate l'oroscopo settimanale qui sotto ma vi do un altro annuncio domani sera martedì primo marzo parleremo insieme dell'ultima luna nuova di questo anno zodiacale la luna nuova in pesci che sorgerà mercoledì 2 marzo e che è una luna nuova particolarmente importante per il momento però ci salutiamo ci vediamo domani sera e poi ancora lunedì prossimo per il cielo della settimana grazie infinite buona settimana a tutti e buona luna nuova a tutti